ma lo stesso Bari la parte fisica adesso lascia il tempo che trova perché quello che hai, hai e da questo punto di vista credo che complessivamente stiamo bene, si gioca ogni tre giorni per cui si resetta subito una gara, ci si concentra sull'avversario analizzando pregi e difetti e cercando di imporre quelli che sono i nostri criteri e il nostro gioco ma il rammarico secondo posto ormai appartiene al passato, io non sono abituato a a pensare a quello che abbiamo lasciato a quello che si è perso preferisco pensare a quello che dobbiamo prenderci e quindi avere un atteggiamento diverso ma anche perché tornare indietro serve veramente a poco si disperderebbero energie inutili il caldo, noi stiamo bene dal punto di vista fisico, l'ho detto anche prima complessivamente il gruppo sta bene i parametri sono per tutti uguali nel senso che ogni squadra giocano ogni tre o quattro giorni noi stiamo bene, abbiamo recuperato anche tanti giocatori abbiamo voglia e motivazione e l'intenzione di passare il turno e sappiamo che per fare per passare il turno dobbiamo mettere nelle due gare alcuni aspetti alcune cose francamente non lo so cosa significa gestire si gioca nell'arco dei 180 minuti per cui passerà il turno la squadra che nelle due partite avrà fatto meglio quindi non si gioca su una gara sola gestire non lo so se per gestione si intende dire pensare e dire che dobbiamo andare lì accontentandoci di far passare il tempo o di giocare per un risultato così cioè no ci snatureremmo non continueremmo il percorso di crescita non continueremmo il percorso di crescita